Kevin ASMR E' un'ottima notizia Ed è una piatina con kebab patatine E ci dovrebbe essere la salsa kebab fatta apposta Quindi iniziamo subito, subito, subito E' un sacco che non faccio a video E probabilmente settimana prossima O l'altro ancora Uscirà un video di un altro mukbang Però stavolta di nuovo del McDonald's Perché ha avuto un sacco di visualizzazioni quello scorso Ed è infatti il video con più visualizzazioni di tutto il canale E' un'ottima notizia E' un'ottima notizia Le piatine Dicevo le piatine sono due Perché erano piccoline Quindi prima questa E poi ce n'è un'altra A proposito Volevo salutare due persone Una Jordi Che è un nuovo abbonato del canale In realtà si è abbonato un po' di tempo fa Però gli ho detto che In un prossimo video l'avrei salutato lo stesso Come ogni persona che si abbona E ha fatto l'abbonamento base Rilassamento base Quello da 1,99 euro E in più volevo salutare un'altra persona Che vi lascio Qua in sovraimpressione il commento Che mi ha semplicemente chiesto di salutarla in un video Quindi se anche voi volete essere salutati Basta che me lo scrivete sotto nei commenti E Accontento tutti diciamo E ci tenevo a dire Che il muro che sta qua dietro L'ho fatto tutto Completamente Io da solo Soprattutto con i soldi miei E Infatti ci ho messo tipo Un mese per ordinare tutto E mancano ancora i led In realtà che Vanno ai lati di ogni colonna di foglie Per ogni chitarra E sono una cosa come 20 metri di led Ma verrà stupendo Perché si possono controllare Poi dal telefono E li posso accendere Cambiare di colore E tutto E E poi non ci sono Quella elettrica Quella acustica Elettroacustica E quella classica Ed è venuto stupendo E beviamo perché sennò tutto salato vi chiedo scusa per il ventilatore ma è insopportabile il calore davvero poi siccome non posso stare in cannottiera perché non sarebbe rispettoso nei vostri confronti vi dobbiamo mettere lo stesso una maglia a maniche corte però fa comunque più calore di una maglia normale di una canotta ecco la cosa è un'altra di una canotta Prima l'ho finito con uno strabono comunque Percivalo l'ho finito con uno strabono Prima o poi vi giuro che provo a fare un video no talking E per chi non lo sapesse sarebbe un video dove io non parlo ma mangio solo Prima 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 Grazie a tutti. Ok ragazzi, siccome sono pieno l'ho lasciato, però poi lo finirò. Comunque, questo video finisce qui. Ne ho altri, molti altri in mente per voi che vedrete nelle prossime settimane, mesi. A finire. Ok ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like, attivare la campanellina. Se volete potete lasciare anche un commento con la vostra opinione e abbonarvi se volete. E quindi niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, 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 ciao.